Eeeh, what's up a tutti, c'è ormai e benvenuti da Jagerina in questa nuovissima serie su Layers of Fear 2. Vediamo ragazzi se per questo inizio riusciamo a raggiungere almeno i 70 like ed eccoci finalmente qui a iniziare questo gioco. Questo inizio menù tra l'altro ragazzi è alquanto inquietante perché non c'è alcuna musica, alcun effetto sonoro, quindi già questo ragazzi mette una certa angoscetta. Io ci tengo di nuovo a ringraziare i tre donatori che con le loro donazioni appunto mi hanno alla fine permesso di poter comprare questo gioco e quindi hanno fatto sì che questa serie avesse luogo, quindi grazie davvero di cuore a tutti. Perché oggi non ho cominciato What Remains of Edith Finch ragazzi? Perché effettivamente non l'ho ancora finito di installare, quindi avevo fretta di registrare oggi diciamo così per cui mi son detta Layers of Fear già ce l'ho installato, incominciamo direttamente quello. Non so sinceramente cosa aspettarmi da questo gioco perché qualcuno di voi mi ha detto che è addirittura più spaventoso del primo. Ci ricordiamo cosa avevo detto ragazzi alla fine della serie del primo Layers of Fear che cioè l'ho ritenuto uno dei migliori giochi horror a cui io abbia mai giocato. Quindi probabilmente suppongo che su questo sequel, non so nemmeno se è un sequel o una storia a sé, comunque suppongo che su questo nuovo gioco ragazzi si siano impegnati ancora di più per far sì che fosse appunto anche migliore del primo. Quindi un pochettino di remore sinceramente ad iniziarlo ma bando alle ciance e andiamo a giocare. Benissimo eccoci qua, questo è effettivamente il menu principale. Io direi che renderò i sottotitoli un pelino più grande, la vibrazione un pochettino minore. Mirino oscillazione destra non so che significa, modalità sicura ancora meno ragazzi per cui... What the hell vabbè? Io abbasserò un pelino ragazzi il volume della musica perché mi sembra veramente molto alto. Da un lato però sono molto curiosa di provarlo, andiamo. Ok, qua ci dà la possibilità di scegliere fra modalità normale e modalità sicura. E a quanto pare in quella normale ragazzi i mostri possono ucciderci. Il gioco è stato inizialmente creato in questa modalità e la modalità sicura ragazzi dice che i mostri ci sono sempre ma non ci inseguiranno o uccideranno. Allora, sapete benissimo ragazzi quanto io solitamente sia un pochettino imbranata. Quindi sinceramente mi sentirei appunto più sicura a scegliere la modalità sicura. Anche perché tra l'altro nel primo layer Sofia ragazzi da quel che ricordo comunque appunto se c'erano presenze non ci hanno mai effettivamente attaccato. Cioè non c'è mai stato il caso in cui un mostro ci abbia attaccato o ucciso. Quindi questa è una cosa nuova di questo gioco. Sinceramente ragazzi io penso che già giocherò un pochettino nel panico. Se dovessero starci a rinseguire anche i mostri, cioè penso che sarebbe veramente troppo. Per cui non me ne vogliate. So che ci sarà chi dirà, eh ma vedi quanto sembra nata. Potevi scegliere modalità normale per rendere il livello del gioco un pelino più alto. Sti cazzi ragazzi, scelgo. Modalità sicura. Questo gioco tra l'altro ha l'autosalvataggio per fortuna. Per cui cercherò sempre di fare attenzione alla comparsa dell'icona. Ok, andiamo. Iniziamo benissimo ragazzi. Davvero manco un attimo di tregua perché già l'ambiente che mi circonda mi sta del tipo terrorizzando. Ok, siamo su una nave ragazzi. E questo è chiarissimo. E... Oh my god. Ok, ok, va bene. Cominciamo. Proprio bene, questi quadri poi sono di una bellezza veramente, oserei dire, disarmante. Oh mio dio. Vabbè, io vado. Così, cioè ci hanno buttato qui ragazzi senza se, senza ma, senza darci manco il tempo di pensare assolutamente a nulla. Benissimo. Allora, premi R2 e sposta R per aprire la porta. Perfetto, così si interagisce. Meraviglioso, c'è qualcuno lì? C'è qualcuno... Oh mio dio. Ehm... Ehm... Ma che cazzo... Jan Mooring, non so cosa significhi. Ok, non ho capito assolutamente niente ma è stato, oserei dire, alquanto terrificante. Aha. Ma che cavolo... Che giocattoli? Che cosa? Che giocattoli? Che cosa? Ehm... Eh? Ma... 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 Ma recita cosa? Cioè, di cosa stiamo parlando? Io stavo dormendo, stavo tanto bene. Oh. Ma che cavolo... Ma che cavolo... Testing, 1, 2, 3. Testing, 1, 2, 3. Testing... Sì, sa, sa. Prova, prova, sa, sa. Tutto qua? Mi inizio il gioco, ragazzi, diceva che l'audio è tipo B qualcosa, insomma, è stato creato apposta per usare le cuffie e in effetti... Sto notando che... Cioè, dagli effetti suoni che sto sentendo, ragazzi, è fatto veramente bene. Nel senso che sento suoni provenire dappertutto. Cioè, è incredibile questa cosa. Spero che ti trovi bene, ricorda quello di cui abbiamo parlato, concentrati su quello che sai fare meglio. Trova quel logo speciale che conosci, trova la tua motivazione, costruisci il personaggio, fidati, ne varrà la pena. Cercherò di restare in contatto, fai attenzione, il tuo amico è agente. Ok, quindi, da quello che sono riuscita a capire, anche dalla voce minacciosa che ci ho parlato all'inizio, a quanto pare noi siamo un attore. Per cui ha detto, costruisci, ecco, costruisci il personaggio. Collega ricordi, sogni e paure. Preparati al grande ruolo. Perché le paure? A me i ricordi e i sogni mi sarebbero bastati. Guardate, veramente, eh. Dico, dico... Dico sul serio. Non ci voglio credere. Perché dovete sapere, ragazzi, che i vicini che avevamo prima, quelli che avevano il cane che abbagliava ora appunto al momento, sono andati via. E' arrivato un nuovo inquilino. E quanto pare il nuovo inquilino ha deciso di distruggere la casa. Ok, vediamo se possiamo riprendere. Stavo dicendo che a me i ricordi e i sogni bastavano. Le paure, sinceramente, non ne avevo poi così tanto bisogno. Chi vuole giocare all'impiccato con me? Chissà qual è la parola. Così su due piedi. Magari non so dirlo. Va bene. Allora, vediamo un po' che cosa succede se io attivo quest'affare. Cioè, che gliele devo fare? Ah, qua mancano comunque le diapositive. Suppongo si possano mettere delle diapositive qua dentro, giusto? È questo che state cercando di dirmi? Oh, posso andare pure sopra? Fermi un attimo, eh. Ecco, quando si apre la porta di qua già non mi piace. Allora, lo specchio, guardate il caso, ci ha scatarrato sopra qualcuno. L'acqua funziona magnificamente, perfetto. Pure il water funziona, la doccia funziona. Spettacolo comunque che io possa far funzionare sta roba. Va bene, sembrerebbe non esserci un nient'altro qui. Ok, non so perché, ma a me tutta sta roba, ragazzi, mi puzza tantissimo. Di cacca, qui la porta è chiusa, qui posso salire magicamente. Senza fare poi fin troppo sforzo. E non sapevo che le cabine potessero avere addirittura due piani. Bella quella roba, bellissima. Oh, posso spiare fuori? Posso guardare l'infinito? Ma che bel cielo blu, meraviglioso. Bellissimo, possiamo addirittura zoomare. Oh, fantastico. Chissà perché temo che la visione non sarà poi sempre così bella. Allora, se vado di qua, niente. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora andrò di qua, tanto di sotto non posso uscire. E là? Minchia! C'ho pure la mia sala cinema personale. Ma è bellissima questa cosa, bellissima. È il mio camerino, è il mio camerino. Ma dai, ma allora sono una star, assolutamente. Costruisci il personaggio, preparazione, esplora. Chi sono? Dove sono? Caro personaggio, se sapessi dirtelo, di sicuro non staremmo qui. Oh, ma io vorrei sapere chi è lo stronzo che ha scatarrato sopra tutti i miei specchi. Sono così brutto che non mi devo poter guardare. Cioè, ma non lo so. Cosa c'è qui? Uh. Ah, questa è una... Ok, sì, una pellicola. Wow. Oh. Mio Dio. È stato abbastanza pauroso. Che date al cinema stasera? Ok, è abbastanza inquietante questo. E' constatato. E' accolta un maschio, e' accolto di modificare. C'è un maschio. C'è un maschio. C'è un maschio. C'è un maschio. Lassati sui maschi. C'è lui. Oh! Maggi Cats! And yet he stands on a stage where every man must play a part and his is a sad one. Guarda a caso, non poteva essere una cosa allegra e felice, no? Ok... Eeeh... Eeeh... È tutto molto confuso. Effettivamente, questa penso sia la parola più corretta. Allora, già quando ci mettono di mezzo i manichini, la cosa sicuramente è poco piacevole. Per cui, uh, ecco, le cose già cominciano a cambiare. in questo gioco sono maestri a fare questo per cui io dovrei interpretare un ruolo e guarda caso il mio ruolo è un ruolo triste speravo potesse essere qualcosa di bello, di allegro, non lo so stimato viaggiatore per richiesta del regista questa sezione della nave è stata chiusa a tutti i passeggeri e all'equipaggio ti auguriamo una giornata piacevole e appagante transatlantico Icarus è stata chiusa, ok dal regista, ok e anche la porta è chiusa sono solo già c'è qualcuno oh, ah è come nel primo se troviamo degli oggetti, gli oggetti sono collegati ai ricordi no non ho dormito perché qualcuno mi ha detto che non lo posso fare chiarissimo cominciamo bene ecco perché adesso ho capito perché tutti quanti hanno scatarrato sui miei specchi perché il mio riflesso è talmente terrificante che proprio per evitare che io mi suicidi alla sola vista sono stati coperti apposta insomma ho capito ho capito allora suonare il pianoforte nei giochi non è mai una cosa buona mai ma è una cosa buona infatti qua non mi permettono di farlo vedete perché è risaputo che non appena premi un tasto qualcosa succede va bene così c'è nessuno ok oh comunque gli ambienti sono fatti molto molto bene là fuori c'è l'immensità del mare proprio sicuramente l'ambientazione vuole rendere le cose ancora più terrificanti perché ovviamente ragazzi da una nave non si può fuggire fino in fondo al massimo al massimo puoi cercare di nasconderti principalmente al suo interno però quindi c'è fuggire dalla nave è impossibile a meno che tu non ti butti di sotto allora io con i ricordi ho sempre avuto ma questo personaggio è un specifico perché non so se hai notato che ha le gambe rotte quindi cioè se mi devo spezzare le ginocchia pur di fare sto personaggio sinceramente no grazie preferirei sinceramente di no perché ok entrare nel personaggio però fino a certo punto ne non credete ok per adesso non c'è stato nulla di poi così tanto chiaro ragazzi benissimo andiamo fuori a respirare un po' d'aria fresca no st'aria puzzolente che c'è qua dentro ma il panorama ne vale assolutamente la pena anche se cioè così sembra tipo l'apocalisse però ce lo facciamo piacere lo stesso mio dio ok aspettate un attimo ok così l'ho aperta infatti allora già il fatto che ci addentriamo così nelle profondità della nave allora vabbè fin quando rimaniamo qua nelle zone passeggeri ci potrei pure stare ma se già dobbiamo andare tipo nelle zone tipo le caldaie la stiva e tutte quelle cose là già sinceramente per me potrebbe essere un problema se lo dici te amico mio se lo dici te va bene quindi a quanto pare io manco avrei voluto venirci qua perché odio il mare quindi un motivo in più per odiare è stare qua dentro ah manco gli ascensori sono una cosa un po' così positiva io di solito li odio nei giochi gli ascensori e ovviamente andiamo giù ma è una volta che si vada su ecco lo sapevo oh eh lo sapevo ehi oh oh dio 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 io speravo di non fare un torto a nessuno eh speravo di non fare un torto a nessuno ok allora ecco già una parte più oscura della nave e già non mi sta piacere già mi sta avvenire una certa angoscetta eh proprio voglio essere sincera ragazzi brutalmente sincera a me già mi sta venire l'ansietta ok diciamo pure le si però ehi chi c'è yuhu vabbè no allora già tutto questo non mi sta piacendo no mi sta piacendo tutto questo proprio no 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 ragazzi proprio per niente mi sta piacendo i rumori i rumori della nave poi si addicono benissimo ho un'esperienza del genere questo è poco questo è poco ma sicuro yuhu scusate se invado la vostra oddio la vostra intimità però non so perché devo essere qui ok ok una mostra in aspettata il regista ha deciso di girare il suo prossimo film a bordo di un transatlantico che attraverserà l'atlantico i dettagli della trama sono ancora segreti ma le nostre affidabili fonti ci dicono che la stella del progetto sarà a nome leggibile una scelta ovvia forse data l'incredibile carriera di questa stella del cinema e dei suoi molteplici acclamati ruoli sembra che le recente preoccupanti voci sulla vita personale dell'artista non abbiano dissuoso il regista ok quindi a quanto pare avevamo dei problemi dei problemi abbiamo dei problemi tanto per cambiare no tanto per cambiare perché non mi stupisce perché non mi stupisce non lo so perché forse un pelino ovvio era un pelino ovvio non lo so questi spazi angusti mi piacciono ancora meno respiro profondo perché già mi sto mi sto mi sto mi sto mettendo nervosa ok ok c'è un foglietto qui un foglietto a ufficio della sicurezza le nuove procedure entrano in funzione della prossima settimana l'azienda la ritea per sommarare responsabile del loro rispetto prepari tutte le guardie a ricevere istruzioni dettagliate come pensassero sono verificati i casi di individui indesiderati a bordo del vascello dobbiamo assicurarci che c'è un accadale nuovo in breve i clandestini non verranno tollerati perfetto e che cosa avrei a che fare io con queste persone qua no perché cioè che c'entro io no perché mi fate aprire tutte ste cose oh una chiave meraviglioso grazie sto cric mi piacerebbe tantissimo averlo pensavo di poter ok l'inventario si vede semplicemente così perfetto e ok non posso passare perché c'è l'anta aperta ok la chiave di qua perfetto per chinarti ma a me il cric piacerebbe ripeto eh mi farebbe tanto comodo accidenti perché sapete in questi casi non si può mai sapere quando può servire dare una bella botta in testa a qualcuno ok allora già sti sussurri state parlando di me state parlando di me quindi io sarei sfregiato monco state parlando di me eh no eh eh no 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 i topi no i topi no di nuovo eh perché i topi ragazzi erano una cosa costantemente presente nel primo ed erano pure abbastanza inquietanti e terrificanti che diamine chi va là qualcuno vuole un autografo non firmo autografi di notte di sera o qualche che è vabbè vabbè e il martello pure mi piacerebbe sarebbe comodo averlo questo senza dubbio una sorta evicolo cieco aiuto aiuto help non so come si si fa si trasmette punto linea linea punto chiarissimo eeeh che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è oh oh è cambiato di nuovo aiuto di nuovo c'è qualcuno che mi ascolta è cambiato è cambiato di nuovo eeeh eeeh e i corridoi no no ho un buon ricordo dei corridoi in questo gioco c'è e dai ma a che stiamo giocando no perché oddio eeeh perché continuate ad aprire chiudere eeeh non so come se mi voleste dire qualcosa ma poi effettivamente non mi dite una ceppa di niente che è sta roba ah una diapositiva grande oh mio dio ma era così un attimo fa non era così un attimo ah si è chiuso ragazzi perché io sono venuta da lì eh questo gioco sta cominciando a giocare con me nel vero senso della parola sì qua era aperto un attimo fa ragazzi e questa cosa non mi piace oh mio dio eh uno spettacolo da ricordare la recitazione si è fatta come si deve a un settore spaventoso richiede molto coraggio a perdere coscienza di sé e non ripetere semplicemente le battute a pappagallo diventando il personaggio che si interpreta pochi hanno davvero questo coraggio tuttavia accade e posso testimoniarlo dopo la mia visita alla scorsa serata al majestic theater come i miei appassionati lettori sanno bene scelgo le mie parole con molta cura e non sono uno di quei critici facili da soddisfare detto ciò il protagonista dello spettacolo mi ha lasciato senza parole dimostrando un coraggio incredibile alla recitazione di Tizio Caio è stato semplice è stato sublime è stato come se la persona sul palco si fosse dissolta davanti ai miei occhi dando vita al personaggio che interpretava quindi io sono sono bravissimo cioè lo dicono lo dicono tutti che sono bravissimo ok ma io potrei darvi pure ragione per prima mi invitate a entrare e poi mi chiudete la porta in faccia ma non ci si comporta così però è proprio da maleducati lasciatevelo dire che diamine eh così proprio non ci si comporta che cavolo dunque questa nave è proprio strana lasciatevelo dire che questa nave è proprio fatta in maniera strana direi prima di entrare qui se si può entrare ok è chiusa la chiave perfetto allora andrò di qua eh ok l'atmosfera inizia a farsi sentire ogni tanto è come se si fa sentire oddio l'ho sentito ok ma non si vede niente in queste foto perché oh giustamente siamo su una nave e uscilla e ci potrebbe pure stare ma chi l'ha fatto cadere eh chi è stato e dai un'altra volta ah siamo di nuovo qua ok i loop non mi piacciono eh non mi dicono mai niente di buono di nuovo siamo riusciti dall'altra parte però ok eh oh eh boll avete proprio rotto però eh chi rompe paga ragazzi eh io non sono stato io non sono stato per cui non voglio saperne niente io non risarcisco proprio niente oh ok io vado procedo vado avanti senza paura proprio senza paura eh la maggior parte di voi sa già che avrà girato un film di Hollywood a bordo del vostro vascello vi sta inviando linee guida dettagliate riguardo a quali ponti saranno chiuse ai passeggeri irregolari la cosa più importante è che la troppa e il cassa non devono essere disturbati e questo perché è buio oh oh grazie per aver fatto luce sulla faccenda eh gentilissimi uh no no hanno detto che io sono bravissimo eh io sono bravissimo l'ha detto pure un critico complicato ok ma ok ok eh va benissimo così eh vabbè cosa che cosa cosa dovrei ricordare ah ti dirò proprio eh sinceramente no eh non me lo ricordo non lo so ok ma c'è bisogno di farlo per forza in questo modo così tetro e inquietante ok di nuovo qua cioè non potrebbe essere una cosa più tranquilla tanti hanno provato a prendere parte al mio lavoro come se ci fosse davvero scelta solo una persona in grado di dare vita a questo personaggio solo una persona è così disperata da poterlo costruire suppongo di essere io vero ho ragione eh ho ragione oppure no io 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 no io no eh ti ringrazio per la fiducia sei gentilissima ma oddio Gesù ok una fascia ma di che sti oh oh grazie eh quasi mi ammazzavate 291 c'è un numero ricordiamocelo ah eccola perfetto e allora come cazzarola ah ok così 2 non ci sto capendo più niente 2 aspetta 2 così stai lì 9 1 fantastico sono bravissima sono geniale ma quanto sono bravo pensate di potermi impressionare cioè ragazzi ma con chi con chi pensate di stare parlando ok sono due bambini è che non capisco se si muove è la salve signore ok 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 sono manichini ok che devo fare mettermi qui eh c'è visto che c'è sto quadrato per terra che significa wow giro giro tondo casca il mondo casca la terra e tutti giro per terra no ok ok posso dire di averne già abbastanza ah oh merda che devo fare me devo sedere ahhh perché avete fatto salta a destra al poverino perché vabbè non mi è dato saperlo vado via oh spero non succederà lo stesso a voi perché io io non ho fatto niente eh io non ho fatto niente non voglio saperne niente io di chi rompe ok c'è un manichino lì allora ragazzi vi ho appena salvato la partita e che dire che effettivamente fino ad ora non è successo niente di che ma vi posso assicurare ragazzi che una sensazione di angoscia non so come ci sia riuscito questo gioco già è riuscito a trasmettermelo c'ho qua la bocca dello stomaco ragazzi non sto scherzando probabilmente mi sono un po' autosuggestionata non lo so fatto sta che secondo me non abbiamo visto ancora niente come nel primo lei e soffior magari il primo paio di episodi ancora ancora sembravano abbastanza sopportabili poi le cose sono andate precipitando per cui suppongo che succederà la stessa cosa in questo mi raccomando ragazzi sostenete questa serie per favore per darmi il coraggio per continuarla questo video termina qui grazie a tutti un bacione ciao a tutti ragazzi da giocherina ciao vi ricordo ragazzi che se volete quest'anti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni ciao